Un saluto dal Tg della mobilità, qualità dell'aria, anche oggi continua lo stop ai veicoli più inquinanti, sino alle 20.30 all'interno della fascia verde dovranno fermarsi le auto benzina Euro 2, moto e motorini Euro 0 e 1. Inoltre questo pomeriggio dalle 16.30 alle 20.30 lo stop sempre nella fascia verde sarà anche per le auto diesel Euro 3. Il blocco si aggiunge a quello permanente H24 dal lunedì al venerdì festivi esclusi ancora in fascia verde per le auto a benzina Euro 0 e 1 e per quelle diesel Euro 0, 1 e 2. E sino al 10 gennaio sulla metro C viene ripristinato il normale servizio serale anche dopo le 21. Il cantiere per il prolungamento della linea da San Giovanni al Colosseo riprenderà dal lunedì 11 gennaio. Per ora è tutto appuntamento alla prossima edizione.